Buongiorno a tutti, buongiorno a tutte, buongiorno da Cristal Radio, Good Morning Milano, buongiorno da Fabio Ranfi, sono le 7.07 di oggi, mercoledì, 17 gennaio, inizia una nuova giornata in vostra e nostra compagnia. Come state? Cosa state facendo? Dove andate? Siete già in giro? Questa è la domanda di rito che vi devo fare sempre ogni mattina quando ci sentiamo. Mi siete mancati, mi siete mancate, ma eccoci qua di nuovo, no? È una giornata lunga, è una giornata che passa da quando alle 9 vi saluto a quando alle 7 vi risaluto la mattina dopo, è lunga e senza di voi sicuramente non è così bella come le due ore che passiamo insieme, quindi non mi spiace per quelli che mi incontrano nella giornata che adesso pensano che fanno schifo, no, no, no. Va bene, dai, 33178-53555, il nostro numero di Whatsapp, potete scriverci, raccontarci come sarà la vostra giornata. Oggi pensa, tutto bagnato in giro, visto qua fuori, ma per l'umidità, credo, cioè per la nibbia che c'è stata, mi sembra che abbia piovuto più di tanto, ecco, quindi c'è molto, molto umido, non è tanto il freddo quanto l'umido, che poi è la stessa frase che diciamo d'estate quando è, non è tanto il caldo quanto l'umido. Quindi abbiamo capito che l'umido non fa bene, non fa bene ai capelli di chi si è appena fatto la piega, ma non fa bene neanche alle nostre ossa la mattina quando ci svegliamo appunto alle 7 del mattino per iniziare la giornata insieme. Giornata che inizia insieme anche al suon di musica, con tante canzoni che metteremo quest'oggi qui a Good Morning Milano, da qualche parte però bisogna pure iniziare, no? E allora iniziamo con Annalisa, con Euforia, Cristiano Radio, Good Morning Milano. Euforia, Annalisa, Euforia, quanta Euforia, anche la mattina, beh, dobbiamo averla, devo averla, so che molti non vogliono neanche sentire parlare la mattina, non vogliono neanche, però non credo che questi che non vogliono neanche sentire parlare accendano la radio o ascoltino Cristiano Radio, credo, ecco, così, ma me lo auguro per loro, più caldo, sono sempre un po' masochisti. Comunque, 3317853555, il nostro numero di Whatsapp, buongiorno Adalberto che ci scrive, buongiorno Fabio, buongiorno a tutti i cristallini, visto che piove prevedo una giornata difficile per chi si deve spostare a Milano. Ah, vedi, ecco, qui non pioveva poco fa, era solo bagnato, ma... Viola, stava piovendo quella centrata in studio tu adesso? Ah, stava iniziando a pioviginare, ecco, infatti, ok. No, perché con lo suscito di casa io non pioveva ancora, invece adesso, ecco, sta piovendo, vabbè. Eh sì, eh sì, Alberto, mi sa che oggi non sarà così semplice spostarsi, cosa divertente è che in realtà tutte le previsioni non danno, cioè, previsioni, in questo momento i meteo attuali non danno pioggia, quindi dice che era un bell'uomo e veniva dal mare, no. Dice che piove, ma poi, Alberto, effettivamente se metti fuori la testa vedi che viene giù, ma, come si dice, non ci sono simboli di pioggia su nessuno dei nostri meteo, widget meteo di giro per lo studio, vabbè. Comunque, 17 gennaio, diciassettesimo giornate dell'anno, così, voglio ricordarlo, è abbastanza facile, terza settimana dell'anno, questo è già un po' più, devi fare i conti, ma soprattutto mancano 349 giorni alla fine dell'anno. L'ho letto adesso su Google. Vabbè, comunque, cosa è successo oggi nel mondo? Allora, oggi, nati oggi, nati oggi, Jim Carrey. Jim Carrey nasce 62 anni fa, pensa te, grande attore, ma nasceva anche 82 anni fa, oggi sarebbe stato il suo compleanno, Cassius Clay, cioè Mohamed Ali, sì, nasceva Cassius Clay, poi diventa Mohamed Ali il grande pugile, e quindi, appunto, 82 anni fa sarebbe nato. Anche Tonino Zugarelli è nato 74 anni fa, chi è Zugarelli? Quello che è uno di quelli che fece vincere da Coppa Davis negli anni 70 alla mitica squadra di tennis italiana. Eh sì, quella lì, quella lì, quella lì, quella lì. E, beh, nient'altro, oggi niente giornata, non c'è stato, è successo anche il 17 gennaio, è sempre l'inizio, quindi a inizio l'anno non succede mai grandi cose, no, non è vero, dipende. Però il 17 gennaio non è una di quelle giornate dove abbiamo da... Ah no, ecco cosa, 95 anni fa, pensate, debutta Braccio di Ferro, ecco sì, me l'ho segnato, me l'ho perso. Nel 1929 viene pubblicata per la prima volta nella striscia Thimble Theater, Braccio di Ferro, Ebbè, sì, pubblicata sul quotidiano King Futures, appunto, ideato dal disegnatore statunitense Ailsi Kreiser Segar, questo è il nome del disegnatore, e debutta appunto Braccio di Ferro, 95 anni fa, 1929, pupae, pupu, a buona bastello, pupu, quello lì, sì, 95 anni fa, beh dai, portati abbastanza bene, non ho mai capito poi in realtà se è un vecchio, se non è un vecchio, non ho mai capito questa cosa di Braccio di Ferro, perché siamo un vecchio, ma in realtà non lo è, perché è un marinaio, giovane, anzi, è abbastanza prestante, poi vabbè, quando mangia gli spinaci, come dice il nostro amico Mario Moroni, mangiate sempre verdure, ecco, infatti quindi, molto probabilmente nasce anche da quello, dal fatto di dover convincere i bambini a mangiare gli spinaci, io non li ho mai mangiati, è una roba che mi hanno mai mai piaciuto, e ci provavano, ma guarda che Braccio di Ferro mangia gli spinaci, eh, fatevi mangiare a lui, ma non piacciono, quindi cosa volete da me. Comunque, invece, se siete in giro nella nostra città e non siete con Braccio di Ferro, potete alzare le automobili, spostarle e passarci sotto, dovete stare alla dura legge del traffico, anche se a quest'ora magari non è ancora così intensa, ma appunto, sta arrivando la pioggia, e quindi ci colleghiamo con luce verde per sapere la situazione del traffico in questo istante, sulla nostra città, quindi, lì a voi, luce verde. Carl Brave, posso, insieme a Max Gazzè, appunto, dal 2018, però ci fa sempre cantare, no? Max Gazzè, bravissimo in questo featuring, insieme a Carl Brave, 7.20, Cristal Radio, Good Morning, Milano, queste le coordinate per ascoltarci, fm96.2, DAB+, app iOS, Android e anche il sito internet. Andiamo a leggere un po' di notizie dai giornali, perché sia Repubblica e Corriere hanno risalto a quello che sta succedendo in questi giorni e anche alle parole del sindaco che si è espresso su che cosa? Su i presunti, diciamo, abusi ed edilizi che ci sono in questo momento a Milano, o meglio, sulle indagini che ci sono in atto su alcune presunti, appunto, abusi ed edilizi. Qual è il tema, però? È il tema che in queste indagini vengono anche indagati i dirigenti del comune che hanno a che fare con le varie pratiche e quindi il sindaco Sala dice attenzione, però, c'è un cortocircuito con la procura. I dirigenti hanno paura di firmare. Ebbene, sì, sembra che gli uffici comunali stiano per fermarsi quasi in una sorta di freezer, perché la paura della firma e la conseguente possibilità di una denuncia o meno anche solo di essere comunque iscritti nel registro degli indagati è veramente, veramente alta. E quindi il sindaco Sala dice dobbiamo trovare una soluzione, nel senso che, giustamente, dice se ci sono degli abusi vanno perseguiti e tutto, ma non bisogna fare in modo che, cioè bisogna evitare che appunto gli uffici abbiano questo terrore nell'apporre delle firme. Le regole vanno riviste, tra parentesi siamo alle porte della revisione del PGT, il piano del governo del territorio, che è quell'insieme di regole, paletti e normative che danno appunto l'indirizzo e danno lo spazio in cui ci si può muovere per le varie costruzioni, per le varie rigenerazioni urbane, tant'è che infatti anche l'assessore Tancredi, l'assessore Giancarlo Tancredi, quello proprio alla rigenerazione urbana, è andato anche proprio nella giornata di ieri per circa un'oretta nell'ufficio del quarto piano della procura di Milano, davanti al procuratore appunto Marcello Viola e al sostituto procuratore, scusate, procuratore aggiunto Tiziana Siciliano, proprio a parlare di questo. Non possiamo parlare dei casi aperti, che sono in questo momento tre quelli più importanti, tra cui la Milano Tower in zona Maggiolina, poi le Park Tower di Via Crescenzago, ma soprattutto quello da cui nasce un po' tutto quanto è l'Hidden Garden, un palazzo costruito appunto in un cortile, all'interno di un cortile in Piazza Spomonte, cioè è nato un grattacielo in un cortile in Piazza Spomonte. Sicuramente ci sono delle cose che non tornano, anche qua vicino alla nostra sede ci sono delle case costruite a ridosso di altre, in zone interne, che chiudono luce a case preesistenti, cioè fanno ombra praticamente tutto il giorno a case preesistenti e tutto, ma bene, ecco la prima cosa che viene da dire, ma chi è che ha dato il permesso per costruire qui? Chi è che ha firmato questi fogli? C'è da dire che, come dice il sindaco, le regole vanno un po' più ristrette, ma soprattutto vanno delineate meglio perché c'è ancora troppa interpretazione e questa interpretazione dà poi adito alle varie procure giustamente anche di indagare e di denunciare, cosa che però porta, sempre secondo il sindaco Sala, ad aver paura da parte dei dirigenti a firmare e quindi a dare vari permessi ed inizi che da una parte possiamo dire, beh, meglio così, così non si costruisce più, però non possiamo sperare solo nella paura della gente per fermare magari una cementificazione se vorremmo fare altro e poi così in realtà non è perché poi vediamo che le cose comunque avvengono lo stesso e soprattutto la paura della firma si ripercuote in tutte le varie circostanze dell'amministrazione comunale e della dirigenza comunale, quindi andremo a seguire questa vicenda e il sindaco Sala appunto ha avuto parole ben chiare su quello che bisognerebbe fare, rimettere a posto le regole e aprire un dialogo faccia a faccia con la procura per capire meglio che cosa si può fare per risolvere queste situazioni. Takachi, Ketra, Shiva, Anna e Joliet, Everyday, 7.32 minuti, Cristian Radio, bentornati dopo una piccola pausa qui con Good Morning Milano, sempre qui su Cristian Radio appunto e anche in diretta su Milano News e vi ricordiamo che potete anche andare su Milano News a rivedere tutto quello che è stato fatto, detto durante le nostre puntate, tra cui ad esempio potete rivedere e ascoltare il collegamento che abbiamo in questo momento con Marco Galli, tecnico del Consorzio Est Villoresi perché, eh sì, i navigli sono in secca, li avete visti sicuramente, avete girato nella nostra città, avete visto che sono in secca e vi siete chiesti come mai sono in secca, lo chiediamo a chi apre e chiude il rubinetto ogni anno. Buongiorno Galli! Buongiorno, grazie, buongiorno. Buongiorno, allora quest'anno, quest'anno poi dopo, come sempre, appuntamento a quando riapriamo perché dobbiamo sempre esserli insieme ad aprire il rubinetto, sa che mi piace tanto a me l'idea che apriamo, riapriamo e chiudiamo, ma allora ricordiamo perché i navigli in questo momento sono in secca, come mai il Consorzio chiude appunto per un periodo dell'anno i navigli e non manda, diciamo, tutta l'acqua necessaria, tutta l'acqua che di solito vediamo passare, il naviglio non la manda tutta. Come mai, Galli? Ormai, come abbiamo imparato, ci siamo già incontrati diverse volte per poter far funzionare molto bene il canale quando serve, quindi nel periodo estivo dell'irrigazione, dobbiamo fare delle manutenzioni. Si cerca sempre di limitare gli interventi anche a livello temporale di asciutta del canale per molteplici motivi. Quest'anno siamo riusciti a fare, ormai abbiamo imparato anche un po' la tipologia dei navigli, siamo riusciti a fare un'asciutta parziale sul tratto verticale del naviglio, ossia quella da Turbigo ad Abbiate Grasso, quindi su quel tratto non siamo andati in asciutta totale, ad Abbiate Grasso abbiamo fermato l'acqua con la solita attraversa, ormai ci siamo incontrati anche su posto, io e lei, verso Milano, quindi abbiamo un'asciutta totale da Abbiate Grasso a Milano per poter fare degli interventi manutettivi, sempre importanti in questo caso, tra Gaggiano e Vermezzo, poi abbiamo un altro intervento a Trezzano e l'ultimo a Milano, proprio su confine con Corsico. Siamo riusciti, come l'anno scorso era stato fatto un esperimento per la prima volta, è andato molto bene, l'abbiamo ripetuto quest'anno, abbiamo montato una traversa alle porte di Milano, quest'anno è sotto il ponte delle Sciagginovi, giusto per individuare un po' la posizione, per poter bacinizzare l'area portuale di Milano, quindi avere dell'acqua comunque in area portuale d'Arsena, fino a concchetta. Ecco, infatti, se si va in Darsena, se andiamo in Darsena, infatti noi troviamo dell'acqua, un po' meno rispetto al solito forse, ma l'acqua c'è, giusto? Perché avete, diciamo, come dite, bacinizzazione, giusto? Fate questa cosa qua. Il termine corretto è bacinizzazione, sì, se si ha il suo caso. Bacinizzazione nel senso che si è visto che è possibile fermare l'acqua, diciamo così, quella sorgiva, quella innessa, dei pozzini MN, ci sono diverse introduzioni di acqua, riuscire a tenere un livello accettabile in Darsena per poter fare tutte le attività che mi sono richieste in Darsena e per non mettere in asciutta anche per la fauna etica piuttosto che per altri motivi. Chiarissimo, chiarissimo. E dice invece il Pavese, come siamo messi sul Pavese? Il Pavese è andato in asciutta anch'esso perché è necessita di alcuni lavori di manutenzione concentrati tra Vinasco, Casarile e Giussago, sempre per cedimenti spondali e risanamenti. L'asciutta è iniziata il 27 di dicembre, avete chiuso così, poi sappiamo che ci vogliono un paio di giorni prima che tutto diventi veramente asciutto come lo vediamo in questo istante. Per quando è prevista invece la riapertura? Allora, quest'anno, come ha detto giustamente lei, siamo andati in asciutta il 27 di dicembre e siamo riusciti a tenere l'acqua fino adesso, quindi non abbiamo avuto nessuna asciutta. Adesso probabilmente anche avendo tenuto più acqua o comunque le condizioni meteo sembrerebbe che il fondo del canale si asciughi più lentamente, soprattutto sul Pavese, comunque la riapertura, così come per il nostro calendario, è i primi giorni di aprile di tutti e tre i canali, diciamo, sia il grande che il pavese. Perché c'è anche il bereguardo, giusto? C'è anche quello, c'è? Sì, diciamo che comunque il bereguardo è il primo tratto, ossia da Biate Grasso fino alle porte di Motta Vesponti, potremmo dire, un'asciutta partiale come il grande, l'acqua che è vincolata a questa parte di canale. La seconda parte di canale stiamo dovuto andare in asciutta per fare gli entramenti molto importanti sia di scendimenti espondenti, ma anche di alcuni dei sanamenti dovuti a un po' di sistemi strutturali, insomma, da riguardare. Ecco, invece il Villoresi, invece, niente, giusto? Il Villoresi scorre felice nei nostri territori, giusto? Scusi, non ho capito bene la domanda. Dicevo, il Villoresi, invece, viene mandato in asciutto oppure non più? Basta, non ci sono più asciutto per il Villoresi o ho capito male? No, allora, il Villoresi funziona in maniera diversa, anche per il Villoresi è prevista un'asciutta totale, però sa che abbiamo parlato già a tempo fa che comunque ci sono delle bacinizzazioni, però quest'anno effettivamente è stata l'inviata, quindi siamo in asciutta, cioè non siamo in asciutta. Ah, ok, ecco, no, infatti quello... Ah, bene, 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 bene. Ricordiamo che poi, appunto, queste asciutte servono anche, scusami, servono soprattutto appunto per essere, per dare un modo di fare delle manutenzioni che sono importantissime, anche perché appunto in vista poi dell'arrivo dell'acqua che poi sappiamo, soprattutto per quanto riguarda il Naviglio Grande, e credo anche il Pavese si è fatto così, poi mi dice lei, Galli se sbaglio, è straimportante che in realtà queste sponde un po' di acqua la prendano perché poi l'acqua va nella falda, rientra poi nei campi, scende verso i campi d'agricoltura e porta poi quell'oro che è l'acqua dei Navigli, l'acqua dei Villoresi, giusto? Anzi, ormai non bisogna più insegnare nulla, è imparato tutto. Sì, assolutamente, è tutto corretto quello che hai detto. Nel senso che innanzitutto le asciutte si cercano sempre di concentrare, nelle asciutte si cerca sempre di concentrare la maggior parte di tutti i lavori che ci sono da fare e fare le asciutte il più breve possibile. Quando possibile direttura fare le asciutte parziali. Questo è proprio come dice lei che tenendo un po' d'acqua nei canali comunque questi non si asciugano, vanno a interagire con la falda piuttosto che a rifornire a valli o comunque nei territori più lontani verso il Ticino o comunque più lontani da Milano le risorgive, quindi potrebbero essere dei contanili o anche altre colature. E sì, senza altro, questo è tutto un gioco, un sistema di risorgive, di canali sotterranei, potremmo chiamarli così, oltre che la falda stessa. Eh beh sì, perché infatti tutto è collegato, l'invarianza idrica, non so come si chiama, comunque diciamo che è tutto collegato là sotto. Noi possiamo fare tanto quelli che da sopra diciamo ah noi siamo i padroni del mondo, ma in realtà là sotto succede di tutto, succede l'acqua va e per fortuna va anche dove deve andare, soprattutto per la nostra agricoltura. Ricordiamo infatti quanto è importante l'acqua del Consorzio Villoresi per tutta l'agricoltura lombarda, oserei dire, perché poi comunque si ripercuote su tutto. Quanto, no giusto? Sì, sì, assolutamente. Ma anche perché dobbiamo pensare che tutto è collegato, ma anche a nord e nel Naviglio, arrivando verso il Naviglio, quindi tutto ciò che c'è a nord rispetto al Villoresi, il canale stesso Villoresi quando bagna e tutto quello che succede tra Villoresi e Naviglio quando piove, anche questo, o comunque tutto quello che succede sulle montagne si infila comunque nel sottosuolo e poi dopo lo risentiamo noi in pianura. Quindi il Naviglio va ad interagire con tutto quello che succede anche a monte, quindi non è solo il Naviglio che apporta questa cosa, ma diciamo che il Naviglio ha un grosso apporto, comunque un apporto importante. Chiarissimo. Bene, Galli, io la ringrazio tantissimo. Ci vediamo ad aprile allora, ok? Ci vediamo ad aprile lì ad aprire i rubinetti a Turbigo, va bene? Sì, va benissimo, va benissimo. Io l'aspetto come al solito. Come sempre, tra prendesi, svegliataccia una tutina peggio che venire a fare la radio, ogni volta, è sempre prima, è sempre prima. Va bene, grazie a te, grazie a Galli. Abbiamo anche i doppi appuntamenti, Turbigo e poi Abbiate Grasso. Ah, giusto, giusto, è vero. Prima Turbigo perché poi dopo un po' di giorni si va da Abbiate Grasso a tirare giù la traversa, giusto? Corretto, corretto. Ormai sono pronto, ormai sono pronto. Quando ho bisogno di una mano, vengo io, Galli. Non c'è problema, va bene. E' barattissimo, va bene. La salute, buona giornata. Grazie mille, grazie mille al Consorzio Est Villoresi. Grazie per quello che fate. Grazie anche per tutte le informazioni sempre puntuali che ci date. Grazie mille, buon lavoro, Galli. Grazie a voi, altrettanto. Angelina Mango, Catodico Affa, 7.45 minuti, Crystal Radio, Good Morning Milano, mercoledì 17 gennaio. Abbiamo sentito appunto il perché. In questo momento vedete, trovate i vostri amati navigli in secca e quindi grazie ancora al Consorzio Villoresi per averci raccontato i motivi di base. Da una parte c'è la necessità di ripristinare alcune situazioni all'interno dei navigli e dall'altra di fare delle manutenzioni e quindi si può, grazie a tutto un sistema di chiuse e dighe, di abbassare il livello dell'acqua dei vari navigli di Milano e quindi poi poter intervenire fisicamente dentro al naviglio. Non c'entra niente la pulizia, non c'entra niente quella roba lì che invece viene fatta direttamente quando il naviglio c'è l'acqua e la viene pulita tranquillamente. Ricordiamo anche quanto in realtà l'acqua del naviglio sia pulita perché è importante che sia pulita per l'agricoltura e per coloro che utilizzano quell'acqua. Continuiamo a leggere invece un po' di notizie dai giornali di Milano, in questo caso da Repubblica Milano, perché l'assessore Marco Canelli è indagato per la morte della ciclista Cristina Scozia, travolta a una betoniera inchiesta per omicidio colposo. Questo è il titolo di Repubblica. Il 20 aprile 2023 la donna era morta sulla ciclabile tra via Sforza e Corso di Porta Vittoria. Indagate anche due dirigenti del settore mobilità. Allora, ecco, qui fa un po' il pario con il tema di cui parlavamo prima, cioè abusi ed inizi e viene indagato il dirigente del comune. In quel caso, direbbe da dire, qualcuno ha messo la firma e tutto. In questo caso, e sapete benissimo quanto noi di Good Morning Milano siamo favorevoli alla costruzione, anzi all'implementazione di aree pedonali, piste ciclabili, zone 30, cioè sempre di più la mobilità deve spostarsi dalle auto verso altro. Però mi viene anche da dire, attenzione perché indagare un assessore per un incidente stradale, io capisco che la città, cioè io capisco la responsabilità civile, indiretta, tutte quelle cose lì, però, come dire, poi non lamentiamoci se non troviamo chi vuole fare gli assessori, non troviamo chi vuole fare i candidati sindaci, chi si candida alle varie situazioni municipali, se non comunali, se non amministrative, perché davvero il gioco non va alla candela, come dire. Nel senso che io capisco tutte le vostre motivazioni, ma indagare la politica, ma anche gli uffici dirigenziali, quando avvengono certi tipi di situazioni, lo trovo veramente assurdo. Capisco che è un atto dovuto, è un atto dovuto dalla procura, è un atto dovuto perché la legge ti impone questa cosa, ma ripeto, le leggi le abbiamo fatte noi, le regole le abbiamo fatte noi, magari ogni tanto pensare anche di cambiarle non sarebbe poi così un dramma. Capisco anche che bisogna però fare in modo che poi chi lavora in certi uffici e abbia certe responsabilità, queste responsabilità le siano portate fino alla fine, quindi fino alla massima responsabilità che ad esempio in questo caso potrebbe comprendere anche la morte della ciclista Cristina Scozia, appunto travolta la betoniera nell'angolo tra via Sforza e corso di Porta Vittoria. C'è qualcosa che si è inclinato, secondo me, questa è la verità. La paura della firma, prima diciamo paura di firmare i dirigenti, paura di candidarsi a questo punto mi verrebbe da dire, perché se io vado a fare l'assessore alla mobilità e avviene un incidente e ovviamente l'atto dovuto è quello di inscrivermi, di indagarmi, perché è competenza del mio assessorato, ma attenzione, quante vie deve gestire il signor Marco Granelli? E allora qui si torna a bomba su un tema che spesso e volentieri viene sviscerato qui a Good Morning Milano, ma forse non dovrebbe essere Marco Granelli a gestire tutte le vie di Milano, adesso poi la metto giù male, nel senso però non servono forse i famosi municipi, non serve forse il famoso decentramento. Questa famosa città a 15 minuti di cui ci riempiamo tanto la bocca non dovrebbe essere anche a 15 minuti a livello di politica, a livello di amministrazione, a livello di gestione della città? Ne abbiamo, sono 9 i municipi. Diamogli poteri, diamogli responsabilità e lasciamoli lavorare. Fasma con Parlami, 7.51 minuti, ci avviciniamo alla nostra pausa dell'ora dove potrete anche ascoltare il giornale radio e qualche consiglio per gli acquisti, ma prima di andare avanti continuiamo con un po' di notizie, anche se insomma questa cosa qui dell'assessore Granelli indagato mi ha lasciato un po'... Attenzione, non è che perché voglio fare l'avvocato difensore di Granelli, anzi, mi interessa poco, ma mi lascia un po' perplesso questa cosa, che avviene un fatto gravissimo, increscioso quasi, che nel 2023, ricordiamo ad aprile, è successo questo, una ciclista venga schiacciata da una betoniera in via Sforza e corso di Porta Vittoria, cioè è sconvolgente secondo me, però da lì a passare a dire allora che l'assessore va indagato, che ripeto, è un atto dovuto, quello che volete, ma mi sembra davvero davvero assurdo, nel senso che, ripeto poi, la conseguenza qual è? Che nessuno poi voglia fare questa roba qui, che se noi continuiamo a dare solo responsabilità, a dare colpe, poi alla fine nessuno vuole fare niente, e già mi sembra che la politica italiana ma soprattutto quelle delle amministrazioni locali spesso e volentieri sia un po' tracciata di immobilismo, beh, se facciamo questo sicuramente non stiamo dando una scossa a questo tipo di politica, comunque va bene. Parliamo invece di, sempre di mobilità, sempre di abilità, perché da Corriere della Sera a Milano, notizia di oggi, Milano, corsie preferenziali aperte anche alle moto, oltre che a bus e taxi, quindi stop ai divieti, il voto a sorpresa in Consiglio Comunale. Passa la mozione presentata dal leghista Samuele Piscino dopo una serie di emendamenti concordati con la maggioranza. La base dice che i dati Istat sull'incidentalità di moto e motorini è così bassa, quindi, insomma, si può alzare, appunto, quindi le corsie, la corsia preferenziale della cerchia di navigli, riservata a bus e taxi, con il voto di ieri del Consiglio Comunale, molto probabilmente verrà aperta anche alla circolazione di moto e motorini. e quindi anche lo stesso destino riguarderà tante altre corsie riservate oggi solo ai mezzi pubblici. Passa quindi la mozione presentata dal leghista Samuele Piscino dopo una serie di emendamenti concordati con la maggioranza. Attenzione, non andate stamattina subito, non è che da oggi potete andarci, il Consiglio Comunale ha approvato questa cosa, adesso bisognerà fare tutto l'iter burocratico e poi anche molto probabilmente cambiare i cartelli semplicemente per fare in modo che voi possiate andare a fare i vostri giri in Milano con moto e motorini anche sulle corsie preferenziali. In realtà in alcune già si può fare, però in altre invece non no. Quindi attenzione ancora, controllate bene. In teoria, grazie appunto a questa mozione di Samuele Piscine e quindi al voto poi del Consiglio Comunale, in futuro ci potrebbero essere dei risvolti interessanti anche da questo punto di vista. E adesso andiamo con la musica Purple Disco Machine, Duke Dumont and Nothing by the Thieves, sempre qui su Christian Radio e poi il GR delle 8. Avanti così! Umberto Tozzi, Gloria, 8 e 09, grazie a la nostra bravissima Viola che ci dà tutte le coordinazioni per rientrare in studio perché non sono solo qui al mio fianco un doutour, un doutour, c'è il dottore, c'è il dottor Giuseppe Iannone, buongiorno dottore! Buongiorno Fabio! Buongiorno, grazie di essere qui con noi, allora, dottore, psicoterapeuta, giusto? Quella è la parola giusta, ma io non ho mai capito che differenza tra psicoterapeuta, psicologo, psichiatra, quelle sono le differenze? Allora, lo psicologo è un laureato in psicologia, lo psicoterapeuta dopo la laurea in psicologia ha conseguito una specializzazione quadriennale in psicoterapia. Ok, quindi più sulla... Ah, ok, faccio proprio la terapia, giustamente, lo dici anche la parola giusta, infatti con te, ok, perfetto. Lo psichiatra invece fa altro, giusto? Lo psichiatra si occupa della cura farmacologica dei disturbi mentali. Ok, quindi, non ne parliamo fuori, non mi sembra molto bisogno di te, comunque, per parte questa battuta infelice, perché siamo qui con te, Giuseppe? Perché, appunto, è inizio dell'anno, si fanno tutti buoni propositi, mi metto a dieta, inizio la palestra, cose che è impossibile fare, ve lo dico già, non serve lo psichoterapeuta per capirlo, non fate queste cose, perché vi portano solo, poi, a sentirvi fra tre mesi dei falliti, dei sensi di colpa che vi ammazzano, perché non ce l'avete fatta, ma, ci sono invece delle cose che possiamo avere, che vengono chiamate social skills, giusto? Sì, giusto. Che sono delle capacità, diciamo, Sì, sono delle abilità sociali che aiutano le persone a sia interagire con le altre persone, ma interagire anche con se stessi, perché il rapporto qui è duplice, sia con gli altri, ma anche con se stessi. Ecco, tu ne hai individuate cinque con cui potremmo iniziare l'anno per capire se queste cinque ce le abbiamo, vabbè, siamo dei fighi della Madonna, come si dice? Facciamolo. Come si dice? Siamo dei fighi della Madonna, come si dice? In maniera tecnica, come sarebbe? Siamo centrati su noi stessi? Siamo a piombo. Siamo a piombo, ok, siamo centrati su noi stessi, siamo a piombo. Se non ce li abbiamo, non scoraggiatevi, perché c'è modo di svilupparli, giusto? Sì, le social skills possono essere acquisite, sì, è vero. Ok, allora, facciamo una cosa, diciamo solo i nomi di queste cinque social skills, poi, pian pianino, appunto, Giuseppe sta qui con noi, il dottor Giuseppe Pianone sta qui con noi tutta la mattinata e ne prendiamo una per una e capiamo che cosa dovete fare per svilupparle e se ce li avete. La prima, già c'è un nome che è stranissimo perché è Powerlessness, quindi credo che abbia a che fare con la potenza, ma un po' meno, non so come dire, la potenza è nulla senza controllo, non credo sia quella roba lì. Poi abbiamo l'accettazione, poi il distacco, ecco, se fosse facile, poi il stabilire i confini, quindi stabilisci i confini e poi il fidarsi, devi fidati di chi poi lo cerchiamo di capire. Giuseppe, però prima, cambiamo un attimo, allora tu hai veramente un percorso particolare per cui sei arrivato a fare lo psicoterapeuta e anche una motivazione abbastanza forte, diciamo, quasi personale, giusto? Ti va di raccontarcelo? Sì, certo, certo. Allora, la scelta di studiare psicologia è arrivata a posto, ma io in realtà ero già laureato. E tu è morto? Ah no, posto era già morto, poi pensate quanto fa bene studiare, non era questo, no? Fare suscitare i morti, fare suscitare i morti. Studiate psicologia e fare suscitare i morti. Sì, no, tu facevi l'altro percorso, giusto? Sì, ero laureato in docenza della lingua italiana stranieri e mi trovavo a esercitare la professione ad Amsterdam, con la psicologia. È stato un incontro fortuito perché nell'istituto presso il quale insegnavo venne a tenere un seminario una psicologa. La tematica era la psicologia dell'educazione e quel tema mi affascinò tantissimo. Mi affascinò a tal punto che mi ero ritrovato a leggere sempre più di psicologia e ad appassionarmi finché mi son detto va bene, proviamo a farne una professione. quindi ho fatto tutto l'iter scolastico universitario per conseguire la laurea e la specializzazione in psicologia e neuroscienze dopodiché ho iniziato con la scuola di psicoterapia ed eccomi qua. Tu hai la specializzazione poi nel tuo campo? Cioè c'è un campo di specializzazione? Sì, mi occupo di disturbi d'ansia quindi le fobie, l'agorafobia, claustrofobia, disturbo di panico, ansia generalizzata, disturbo d'ansia sociale e il secondo filone è quello delle disfunzioni sessuali nell'uomo e nella donna quindi anche la terapia di coppia rientra tra le mie... Chiarissimo. Allora, se siete curiosi di sapere quali sono le social skill che sarebbe meglio sviluppare o che magari invece già avete quindi anzi datevi una pacca sulla spalla in quel caso fa bene l'autostima rimanete con noi perché adesso è il momento dei call play ma poi torniamo qui con il dottor Giuseppe Iannone sempre qui a Good Morning Milano su Crystal Radio per parlare appunto di social skills e allora i call play let somebody go insieme a Selena Gomez Coldplay let somebody go insieme a Selena Gomez un piccolo apparente non c'entra niente guardatevi Olly Marder in the building con Selena Gomez che è davvero bellissimo così intanto qualche consiglio su qualcosa da fare dopo che avete ascoltato Good Morning Milano ve lo voglio dare e allora entriamo nel vivo insieme al dottor Giuseppe Iannone per quanto riguardano le social skills allora abbiamo detto non deprimetevi se non le avete si possono sviluppare giusto dottore sì ok allora la prima c'è un nome stranissimo perché è la powerlessness sì powerlessness rimanda a un concetto di capacità di non controllo che è qualcosa che spaventa tante persone specialmente oggigiorno c'è la tendenza a voler controllare tutto no volersi non solo occupare delle cose ma addirittura di preoccuparsi quindi c'è una volontà di controllo sugli eventi sulle persone sul futuro in generale e questo si associa ovviamente a un'elevazione anche dei livelli di ansia perché perché la vita spesso ci sfugge di mano quindi il concetto della powerlessness invita a fare il contrario non è possibile controllare non è possibile prevedere tutto nella vita e va bene così mi viene da dire perché non ce n'è bisogno in realtà questo è l'incubo l'incapacità di avere un controllo sulla vita è l'incubo di tante persone che soffrono di due patologie in particolare la prima è il disturbo d'ansia generalizzato e la seconda è il disturbo ossessivo compulsivo disturbo ossessivo compulsivo le persone sono spesso super preoccupate nel voler esercitare un controllo su tutto ciò che le circondano mentre appunto la social skill della powerlessness tu dicevi bene le social skill possono essere coltivate quindi anche se è qualcosa che noi non abbiamo non vuol dire che noi non possiamo svilupparle vanno immaginate come dei muscoli in effetti con il giusto training con la giusta consapevolezza è possibile allenarle ovviamente si tratta di fare un allenamento costante proprio come succede con i muscoli però abituarsi a lasciare andare le cose è un ottimo esercizio per capire cosa per capire che se le cose vanno bene non dipende sempre tutto da noi ma a volte anche la vita a darci una mano nel bene e nel male non è sempre colpa o anche merito merito demerito nostro esatto e quindi questa è quindi come per svilupparla un po' di più come facciamo a lasciare un po' il famoso smollati un attimo ma io direi cominciare dalle piccole cose cominciare a lasciare andare le cose non troppo importanti nella vita questo significa caricare un peso molto molto basso diverso il caso del dover del voler smettere di controllare cose invece importanti lì il livello di difficoltà si alza però se noi cominciamo dalle piccole piccolissime cose davvero ci accorgiamo che è un esercizio che ci ridà energia ci ridà energia perché perché controllare sempre tutto provoca un affaticamento anche del sistema nervoso centrale il lasciare andare invece significa come dicevi tu prima mollare un po' la presa appoggiare questo peso a terra e quindi io vi dico fatelo io su questo io ho tutto il controllo a Viola di là nella redazione regia fa tutto lei io grazie Viola sei la mia ricetta della powerliness grazie grazie Viola te veri bene va bene andiamo con un po' di musica e poi torniamo con la seconda social skills vi do l'anteprima che è l'accettazione e qui già invece insomma è ancora più complicato mi sa Gaia con Tokyo 8-24 minuti Cristian Radio Good Morning Milano e siamo qui con il dottor Giuseppe Iannone a parlare di social skills le capacità che dovreste avere o potete sviluppare per vivere meglio la vostra vita anche in mezzo agli altri mi viene da dire la numero due dopo aver parlato di powerlessness cioè la capacità di lasciare andare un po' cioè di non avere tutto questo controllo di tollerare la powerlessness la seconda è l'accettazione invece che cos'è? l'accettazione viene spesso confusa con un altro concetto che è quello della tolleranza accettare non significa necessariamente tollerare tutto ma significa smettere di sprecare sia tempo che energie desiderando che eventi e persone siano diversi da quello che in realtà sono posso dire fa un po' il paio con l'aspettativa anche noi abbiamo delle aspettative altissime su alcune persone poi ci rimaniamo male ma è sempre la sua aspettativa sì ci restiamo male perché non coincidono con l'idea che noi ci siamo fatti di una persona è vero questo succede per esempio anche nelle relazioni amorose conosciamo qualcuno e addirittura prima di conoscerlo bene abbiamo già un'idea spesso idealizzata nelle prime fasi dell'innamoramento di come questa persona è agli occhi nostri idea che però non coincide con la realtà delle cose tant'è vero che poi la delusione è dietro l'angolo se l'aspettativa è alta se l'aspettativa irrealistica è idealizzata è altra e a quel punto è molto facile passare ad una fase invece di svalutazione dell'altra persona accettazione e volontà di controllo sono sorelle in realtà perché perché se io voglio esercitare un controllo sulle persone sugli eventi farò fatica ad accettare che invece le persone e gli eventi possano essere diversi da come io invece me li sono immaginati quindi praticare l'accettazione significa davvero basta con lo spreco e di tempo e di energie per volere che sia il mondo appiegarsi al nostro volere e ok allora torniamo con con la pace di Martino sesso e architettura massimo pericolo le cose cambiano e se anche voi volete cambiare o magari migliorare perché no seguire i consigli del dottor Giuseppe Iannone siamo arrivati al numero tre il distacco il distacco distacco significa imparare a separarsi dalle azioni dalle emozioni dalle reazioni dai pensieri e dalle credenze delle altre persone non tutto infatti merita una reazione e dobbiamo essere bravi a scegliere bene quali battaglie dobbiamo combattere questo è un problema per tante persone tante persone non riescono a dare una dimensione di profondità agli eventi che vivono e reagiscono allo stesso modo esempio una cosa da nulla è in grado di mandarmi su tutte le furie proprio tanto quanto una cosa invece importante l'abilità la social skill del distacco invece è un'abilità attraverso la quale noi possiamo imparare a dare il giusto peso specifico agli eventi che ci succedono non è un invito a essere apatici abulici ma è un invito a considerare davvero il peso specifico degli eventi alcune persone tendono a combattere qualsiasi battaglia quasi fosse la battaglia della loro vita e questo si traduce in un grandissimo spreco di tempo di energie e di risorse che invece possono e dovrebbero essere dedicati ad altri l'arte del distacco consiste appunto in questa sorta di ricalibratura degli eventi e aggiungere una dimensione appunto di profondità a quello che ci succede se volete fare qualche domanda comunque al dottor Giuseppe Iannone noi siamo qua è 33178 53555 infatti Erika ci sta scrivendo ci ha scritto un whatsapp e commenta le prime tre che abbiamo detto allora dice grazie al dottor Iannone allora la prima devo migliorare la prima diciamo era la power poi dice la seconda la citazione beh ci sto lavorando abbastanza bene anche il distacco ha su quello ce l'ho e ce l'ho tanto ecco magari non esageriamo però non troppo distacco non troppo distacco il giusto distacco ok 33178 53555 il numero di whatsapp come te scrive ci farei anche domande o dirci se voi queste social skills le avete non le avete le state sviluppando le state come dicevi coltivando coltivando sì esercitando coltivando dobbiamo innaffiarle tutti i giorni ogni giorno ogni giorno ogni giorno vanno innaffiate per cercare di diventare un po' meglio di quello schifo no scherzo no 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 siete bellissimi anzi siete il nostro pubblico siete il pubblico del miglior morning show della storia della radiofonia milanese quindi insomma come potete non essere un pubblico fantastico no siete un pubblico bellissimi come direbbe qualcuno comunque andiamo avanti con la musica Calcutta due minuti anche se dura un po' di più ma ci piacciono tutti quanti i tre minuti e mezzo di questa bellissima canzone di Calcutta e poi torniamo qui con il dottor Giuseppe Iannone abbiamo la 4 e la 5 non sono le buste di un concorso a premi ma sono le social skills che dovreste avere o meglio cercare di sviluppare e poi vediamo appunto quali saranno adesso andiamo avanti Calcutta due minuti e tanti applausi per Calcutta ma anche applausi per il nostro dottore dottor Giuseppe Iannone che è qui con noi e ci sta aiutando a comprendere meglio le cosiddette social skills voi le avete non le avete beh scopritelo insieme a noi e soprattutto poi se avete bisogno di capire come fare da sviluppare meglio beh il dottore è qua quindi 331 78 535 555 grazie anche a chi ci sta scrivendo appunto e chi ci racconta un po' come sta andando il suo percorso personale con le social skills se volete potete scrivere anche in anonimo non faccio nomi non faccio cognomi va bene ok a proposito di nomi e cognomi dr.Giuseppe Iannone è il tuo profilo Instagram da cui appunto abbiamo preso queste 5 social skills ma ci sono tanti altri consigli che quasi giornalmente dai giusto molto molto ben curato complimenti grazie fai complimenti al tuo social media manager ah me li faccio da solo grazie ah non c'è bravo meglio così bravissimo bravissimo meglio così andiamo con lo numero 4 che sono tu hai scritto stabilisci confini stabilire confini sì la capacità di stabilire confini i confini servono a proteggerci e permettono di scegliere come rispondere a ciò che gli altri fanno non significa avere una pretesa di dire agli altri cosa possono fare o cosa non possono fare stabilire un confine significa dare delle indicazioni chiare alle altre persone di quello che noi vogliamo desideriamo non vogliamo non desideriamo dobbiamo immaginarli come dei cartelli stradali che aiutano le persone a guidare a navigare a non oltrepassare i nostri limiti proprio come noi quando usciamo di casa chiudiamo portala chiudiamo a chiave per evitare che qualcuno possa entrare in casa nostra senza il nostro volere la stessa cosa va fatta nelle nostre vite spesso le persone entrano nelle nostre vite si dice no con i piedi sporchi e si puliscono lì oppure buttano su di noi i loro dispiaceri le loro emozioni negative le loro frustrazioni eccetera ecco noi abbiamo sempre un certo grado questa volta si di controllo su quanto e quando far entrare le persone nella nostra vita come si fa però a farlo senza figurare scortesi o senza essere madonna come sei chiuso mamma mia certo questo ha a che fare con un altro concetto che poi se vogliamo è un'altra abilità da sviluppare che è quella dell'assertività assertività significa io considero rispetto il tuo bisogno per esempio di sfogarti ma considero rispetto anche il mio bisogno per esempio che ho di non poterti ascoltare in questo momento esempio arriva l'amico ha bisogno di sfogarsi perché si è mollato con la tipa ma mi trova in un momento brutto perché sono occupato o altro da fare ovviamente io riconosco che l'amico ha bisogno di uno sfogo ma riconosco che in quel momento non sono in grado di aiutarlo quindi è una situazione in cui si vince in due a pensarci bene perché non significa no, non ho voglia di ascoltarti non ho voglia di sentire le tue storie significa solamente adesso no adesso non posso rimandiamolo ad un secondo momento ecco questa è l'idea dello stabilire un confine ed ecco e questa quindi era la quarta social skills che possiamo sviluppare o che dovremmo avere per vivere diciamo al meglio le nostre vivite stabilire dei confini e adesso Giussi Ferreri Giussi Ferreri insieme a Takachi e Ketra Tagachi e Ketra scusate Takagi e Ketra non ce la farò mai Viola non riesco proprio a dirlo va bene se quindi non siete di dislessici come me è meglio nel caso comunque anche a quello ci sono dei rimedi e non è un problema anzi non siatene non vergognatevi di questo ma parliamo delle nostre social skills parliamo delle social skills che dobbiamo avere quinta social skills fidati fidati è la capacità di fidarsi di chi innanzitutto di se stessi delle proprie capacità spesso di fronte ad un male ad una sofferenza qualsiasi siamo portati ad un atteggiamento di sfiducia nei nostri confronti e invece ci accorgiamo che a fine tempesta siamo usciti dalla tempesta addirittura più forti il male a volte ha la capacità di spremere il meglio che c'è in noi tante capacità tante abilità le sviluppiamo proprio a partire ad una condizione di sofferenza quindi avere fiducia nelle proprie capacità è importante in secondo luogo sapersi fidare anche degli altri e oggigiorno questo è un atteggiamento diffuso quello della sfiducia l'altro è visto come un nemico come qualcuno da cui proteggersi in realtà non è così se ci accorgiamo che di fronte a noi ci sono delle persone come noi che vivono i loro momenti positivi negativi è più facile entrare in un contatto solidale con le altre persone e infine fidarsi anche del mondo della vita perché è vero il male esiste ma c'è anche tanto bene là fuori il male spesso ci sviluppa però non esisterebbero la metà dei cantautori se non ci fosse esatto De Gregoria Ligabue eccetera se non ci fosse quel travaglio interno che c'è in molti di noi non esisterebbero i grandi artisti ma insomma cerchiamo non tutti siamo grandi artisti quindi non cercate per forza di avere il travaglio dentro per riuscire a esprimere no si può anzi vivere in maniera più serena grazie a queste social skills 5 sono e 5 sono diciamo quelle più importanti dobbiamo dicervi appunto coltivarle ogni giorno innaffiarle come possiamo fare per ogni giorno a non perdere il filo a non ricascarci dentro oppure se ci ricaschiamo come possiamo fare se ci ricaschiamo poco male importante è restare sempre con un occhio su noi stessi e un occhio sugli altri quindi avere consapevolezza di quelle che sono le nostre azioni ma anche di quello che sono i nostri pensieri di quelle che sono le nostre emozioni ad esempio con la psicoterapia è facile lavorare appunto per potenziare migliorare le social skill psicoterapia è una parola che sentiamo parlare spesso adesso finalmente ci si va senza problemi o c'è ancora un po' questo stigma questa idea del no ma tanto a me passiamo in termini lo strizza cervelli non mi serve queste cose qua sì no no per fortuna il vento sta cambiando nel senso che il covid ha funto da catalizzatore covid e lockdown hanno funto da catalizzatore e hanno di fatto poi aperto la psicoterapia a tutti oramai quindi quel fenomeno che vedevamo negli Stati Uniti per esempio dove andare dallo psicologo è addirittura di moda la stessa cosa sta succedendo anche in Italia e questa è una fortuna perché occuparci della salute mentale è un must oggigiorno ecco perché fa parte proprio del benessere poi di tutti di tutti noi insomma e poi posso dirvi è anche meno faticoso che andare in palestra oh sì quando uscite non lo so a volte ho visto uscire gente in lacrime che manco si avessero stermiato la famiglia però dopo diciamo è più facile di recuperare e fa molto bene fa molto bene ne vale la pena ne vale la pena e poi non fate la figura con quelli che vengono in palestra con voi che a un certo punto non vi vedono più e dicono ma com'è che Fabio non viene più in palestra boh era sempre qua a farsi le foto davanti allo specchio con le magliette simpatiche e invece non c'è più quindi anzi così riuscite anche a lavorare meglio sui stessi mensana incorporo sano Foo Fighters con The Glass 8 e 54 minuti siamo quasi arrivati alla fine e quindi dobbiamo salutare il nostro ospite di oggi grazie mille al dottor Giuseppe Iannone grazie a voi per l'invito coordinate per sapere di più su di te seguirti sapere dove sei cosa fai seguire i tuoi profili sito web www.giuseppeianone.it oppure la pagina instagram dr.giuseppeianone c'è tutto c'è anche sul numero di telefono a cui potete poi chiamare per prendere nel caso appuntamenti se vogliate andare a raccontare un po' le vostre a scoprire se avete o no queste social skills a raccontare le vostre perplessità al dottore o magari a capire come vivere al miglio certe situazioni che magari vi mettono un po' a disagio ricordiamo che sei specializzato soprattutto in ansia e gestione del panico giusto? che insomma è una questione che per molti è complicata e quindi ben venga se insomma trovate una soluzione magari vi abbiamo dato una mano anche uno di Good Morning Milano ma che bello dai Giuseppe Iannone grazie mille al dottore grazie a voi noi ci risentiamo domani ma non prima della nostra sigla grazie a voi grazie a voi grazie a voi grazie a voi